Adesso un bel sinistro di forte d'incontro Ma ora, faccio Grendelli, che colpo che ha messo Mario a parte di forza il titolo europeo dei pesi più ma Conte, perché va al primo round E' campione europeo, fulminato Grendelli, che si era rialzato Però, secondo l'arbitro, non poterà proseguire E' la conclusione che nessuno si è aspettato